Se avete bisogno di crediti sicuri e che arrivano subito passate nel link in descrizione e con il codice Dexter riceverete il 6% di sconto E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter, sto male, ho l'influenza, ho preso troppo freddo, sto malissimo ma oggi sono qua Per fare questo spacchettamento selvaggio perché a parte che ci stanno i man of the match Pacchetti speciali, rating refresh, è una squadra della settimana della madonna Me l'avevo promesso, ve l'avevo anticipato su Instagram Sono qui con lo spacchettamento selvaggio ragazzi, sporciate più in un posto perché veramente mi sento malissimo Sto cercando in tutti i modi di portarvi il video per stasera quindi Daico pollicioni raggiungiamo e superiamo 35.000 like ma siamo subito pronti a sculare e cominciamo subito Con il primo pacchetto, abbiamo anche dei pacchetti promo, le andremo a vedere poi intanto spacchettiamo il primo ed è subito una magia No, è moreno, facci una tra... una rappata moreno A proposito dei rap, trap, ringrazio Cane Secco per il bel cappello One Love Questo sta messo peggio di me con l'influenza Apriamo il primo pacchetto mega sperando che sia una mega sculata e non una mega inchiappettata Dai è FIFA magica Ma fam perché fai così FIFA Zumba Le mie palle hanno fatto Zumba, ma che cazzarola è? Dai FIFA Sì Dai che buono Dai che ho rating refresh, quello della madonna No No Falman Veratentesca Attenzione Savage 83 Qualcosa stiamo trovando Apriamo un pacchetto giocatori premium della League One Cavani Oh Senti che può essere Cavani L'ho incontrato E lo troviamo Non è Cavani Però chi è? Pastore 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 Dai è FIFA Dai è Cavani Vai buono Vai che è buono Magia santa FIFA Non è Cavani Ma anche Neymar è Fabinho Che forse ha ricevuto anche un upgrade Quindi buono Buono Fabinho Che pallo è FIFA Fai uscire gli overall più alti Però Prima Voglio fare una magia Voglio aprire un pacchetto di questi Che mi ha regalato FIFA No questo Poi era un pacchetto Oreo premium Non ci troverò mai niente Non ci troverò mai niente Però lo apro tanto per Oh Ho detto Ci troverò mai niente È un if Ah è una pippa Però Però Va bene così Pisellone Giannini Ma che cazzo L'ora di baggato è Ma stiamo scherzando 1.88 No raga Questa è una bestia Forza 89 Ragazzi Iscrivetemi qua sotto In un commento Se volete un video Con Pisellone Giannini O DJ Giannini Come lo preferite Ma è un mostruoso Forza 89 Con un metro e 88 Sapete che vuol dire Che ha vinto tutto Nel club È la manna Manna Sono contento Comunque no Dicevo A parte i pacchetti Quelli del cacchio C'ho i pacchetti mega Pacchetto alti Metteci su questi tre pacchetti qua Che mi ha regalato FIFA Perché non lo so perché Apriamo prima un pacchetto rari Dai dai È rari Deve essere per forza uno raro Ma mi aspettavo l'icona Chi sei Astori Astoria Vi racconto la storia De quando l'anno scorso Trovai Messi Totti E Ronaldo If Era FIFA 17 Ma adesso siamo a FIFA 18 Quindi troviamo qualcosa in FIFA 18 A parte che ho già sculato Però voglio qualcosa adesso In questo spacchettamento Oltre al Pisellone Giannini Voglio Un altro If No Ci è rimasto il pacchetto ultimate In giro E non lo voglio vedere Sperato sia una bella Una bellissima sculata Mi rigiro Piano 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 Bandierine È una pippa Oh E sarà E sarà Che domani incontrerò E sarà Tra l'altro Quindi Il segno del testino Ha avuto il rating refresh Quindi buono così Meno tempo Alla Pure Alla Mi sa che ha avuto il rating refresh Oh Trovate tutti da serie A Ma che è Finiti i pacchetti gratis Siamo ancora all'inizio Possiamo Ora sculare bene Mi sta dicendo Abbastanza bene Vediamo di non finire male Eh Tipo così Mochi sei Motta Tiago Motta Ho trovato Guarda me lo sento Benarpa Che pallo Iseo Oh L'ho chiamato L'ho chiamato Basta D.O.P È la risposta giusta Quando trovi Tiago Motta Perché trovo tutto il mondo Trovo Mi scherrondo No Italia Palotteli Oh Sono trovato tutti i carciatori Che ho incontrato Quindi Per favore adesso Cavani Ronaldo Grazie Sergio Ramos Intanto Cavani Non lo posso trovare Perché se trovo Cavani Lo troverai Quindi meglio Cioè fatemi trovare Cavani Palotteli 83 Rating refresh Che bestia Quindi Cavani 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 Non è Chetesco Drax Il vostro caro Drax L'ho trovato Però io ve lo stanno salendo Sento puzza di sculata E l'aria Dai 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 Veri Sì Ready Refresh Ve l'ho detto Sto a svegliere che mi sento male Ve l'ho detto che arrivava la sculata Veri Sì Ready Refresh Serie A Bene così E andiamo E andiamo Oddio Oddio Mi sento ma Benvi Benvi Voglio esultare Raga scusate Taglio un attimo Perché mi sento male Eccoci Grande sculata Vorrei esultare molto di più Ma mi sento male E anche perché ho trovato Fred Che ha segnato la Roma Mannaggia a te Quindi Veramente Ottimo Pacchetto Ve l'avevo detto E non è finita qui Spero di non risentirmi male Metto tutti nel club Anche Pisellone Bagaio Va bene Questa è la storia Di quando ho trovato Due man of the match In a pack E un walk out Mi arriva un altro pacchetto mega Sofferente ma felice Vediamo Che cosa è in serbo per noi Mo' è Neymar Jesus Jesus 83 Rating refresh Vai così Questa è una bestia Grande Jesus Mamma mia Questa è veramente forte Raga È veramente troppo Paggato Troppo forte In panchina sicuro E non è finita qua Ok Un altro walk out Argentino Cici Di nuovo pastore Ah pastore Eh Chi sei Chi sei Chi sei Dai che sei buono Dai che sei bello Chi è Pagliere No chi è Tawin Va bene Va bene Mi piace Il pacchetto mega Mi piace Ho detto Mi piace Chi sei Marez 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 84 Potenziato Bene 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 Mi sta piacere Sto pacco opening Pure star Vabbè Mi sta piacere Marez Vito Marez Quanto è bello Abram è più bello Però La sculata La trovo Oh no Oh no 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 Ok Va bene Oh grey Potenziale Magari avessi trovato Sasho e grey Adesso che sto male L'infermiera come Sasho e grey Ci vorrebbe proprio Di nuovo balotelli Di nuovo balotelli E' luto Proprio luto FIFA Magic FIFA Buono Mo' di nuovo balotelli Guarda Non è vero Porca miseria Mo' vediamo se trovo balotelli per la terza volta dei sei Dai FIFA Famo i seri DOP C'era pure DOP qua Chissà perché Chissà perché Solo tre pacchetti rimasti della league one Ce ne apriamo tutti e tre Almeno una sculata la devo fare Neymar No Drax E' l'altra alla silistra del PSG Amo tra poco Ci sarà anche la carta di Dexter Perché sono un nuovo giocatore del PSG Come al ben sapete Ultimo pacchetto della league one E poi andiamo di prepotenza A spacchettare il pacchetto mega Intanto meno male che un walk out Ora è Balotelli Ronaldo No Non può essere E league one non c'è Però Lopez Va bene Bene andiamo di prepotenza sul pacchetto mega Di prepotenza FIFA Ma che Ma cosa Guarda sembra che proprio che te pia per culo questo Vai Durante sto spacchettamento Sto sculando per metà Durante con 40 velocità Dovai Dai questo bel pacchettino Bel pacchettino Oh mio Dio Pure Redding refresh Oddio Pazzesco Non posso tanto esultare Vi giuro Sto sveniccio Ho un dolore qua Che mi sta Se sta a porta via 89 Davidsilva Non ho trovato altri Men of the match Stavolta Vediamo qua Magari uno doppione Chi se ne frega Men of the match Oh regà Davidsilva 89 E vai così Un altro hit Vabbè Non vedo l'ora definita Spaghetamente Buttarmi a letto Vai Yeeeh Yeeeh Dai Un hit Un video Chi è Cavani 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 Non è Cavani Buono Buggati Tutti i buggati Dopo Giannini Soares 87 di fisico 88 di velocità Tutti i buggati Non mi fanno schifo Regà questi Anzi Chi è Bestiorina Me lo tengo Volentieri Ultimo Pacchetto Maxi E poi Oh buono E poi il mega Francese DC Koscielni Ci sta E' forte E' sto carciatore Bah L'ho promesso Ritorniamo Di pacchetto Meglio Voglio un'altra Mega scurata Come prima Dai FIFA come prima Però Mi sei Bel book out Ronaldo Non è Ronaldo Manco poco Cazzo Manco poco Cazzo Ronaldo E' l'altro Silva Ultimo Pacchetto Mega Ma vaffan bloco Va va Mi hai buttato Mi hai buttato il core Ma Castro Dopo sto pacchetto Ci Ma Castro E divento Guy Che è il bombo Che mi guarda Porta un po' di fortuna Va Ronaldo Ciao Mario Per la gioia Dei tifosi interisti Vaffan cubo Va Vaffan cubo Regà Mi sa che purtroppo Devo Smettere di spacchettare Perché veramente Non mi sto sentendo bene Sto anche trovando Cose buone Tabelloni Ronaldo Mai Però va bene Quaresma Io vi chiedo 35.000 like Per un prossimo spacchettamento Spero che possiate apprezzare Fatto che anche con la febbre Ho fatto questo spacchettamento Se di nuovo Balotelli Quittavo tutto Bonucci Bonucci Buono Finiamo con Bonucci Che sposta gli equilibri E si sposta anche lui Iscrivetevi Al canale Se ancora non l'avete fatto Trovate tutti i link utili In descrizione Io vi mando Un abbracione Un salutone E ci riusciamo gente E ci riusciamo gente E ci riusciamo gente E ci riusciamo gente